Metto in votazione l'articolo 7. È aperta la votazione. Bolognesi, Pilozzi, Piepoli, ci siamo? Bolognesi, Baroni in arrivo, Santanchè, non vedo altre mani alzate, è chiusa la votazione. Mi scusi, onorevole Grillo, l'ho vista mentre dicevo la parola. La Camera approva. 7.01 Nicchi, parere contrario, Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranze. È aperta la votazione. Garavini, Matarrelli. Ci siamo? No. Garavini, no. Dieni, no. Matarrelli, sì. Mantero sta votando. Mantero, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora all'articolo 8, pareri. Prego, onorevole Gelli. Grazie, Presidente. 8.11 Contrario, 8.12 Contrario, 8.13 Contrario, 8.14 Contrario, 8.15 Contrario, 8.16 e 17 Contrario, 8.18 Contrario, 8.19 Contrario, 8.20 Favorevole. 8.20 Contrario, 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 8.20 Cont